Ciao a tutti ragazzi e un saluto da Michele rieccoci qua uscita numero 64 Iron Man bisognava dirlo perché sennò non si sapeva ragazzi sapete com'è ok guardate ragazzi questa copertina meravigliosa vi ho dato già un'anteprima grazie a una segnalazione di Nechita68 e Luca i quali mi avevano appunto segnalato che in questo numero c'è stato fatto da parte della De Agostini o il costruttore non lo so un errore veramente disarmante che tra l'altro è stato ripetuto sul fascicolo che adesso andremo a vedere che riguarda il bottone comunque come di consueto da un po' di tempo ci tengo a far vedere i contenuti e delle immagini e della scrittura contenuta appunto nei fascicoli per dare la possibilità a tutte le persone che per una ragione o per l'altra non hanno fatto questa collezione e quindi procediamo subito a sfogliare questa splendida nuova rivista del numero 64 di Iron Man allora prima pagina abbiamo la pagina dei servizi io vi faccio vedere tutto ragazzi così voi col fermo immagine fatemi sapere se riuscite a leggere ovviamente ripeto come ho detto anche nei video precedenti e li dirò nei prossimi per quelli che non hanno questa collezione ok ragazzi comunque provate a leggere davvero queste storie sono bellissime aspettate che vedo se riesco a avvicinarmi un po' di più così vi faccio anche la lettura nel fermo immagine vediamo i piedini così mi avvicino e abbiate pazienza ragazzi sto lavorando per voi vediamo se mi cade il telefonino ce la faccio allora così forse vi leggerete meglio siamo a pagina 3 qui lo vedremo dopo che sono le fasi del montaggio e i pezzi contenuti in questo fascico stessa cosa qui andiamo avanti siamo a pagina 8 qui all'inizio vi leggevo i titoli ma che senso aveva a un certo punto preferisco darvi la possibilità di leggervela tutta bene voi se volete fatemi sapere se apprezzate se vi piace questa questa mia idea perché se no non serve che ve la faccio insomma pagina 9 sto cercando di inquadrare tutto se ce la faccio ma farvi anche leggere chissà se così riesco meglio scusate ragazzi vediamo così riesco meglio ma che ci ho provato niente così è perché ho i due piedi davanti che battono contro la rivista ragazzi non riesco a farla scorrere in giù massimo vedete qua batto non riesco più andare indietro se porto più indietro i piedini mi si rovescia il telefonino come succede spesso purtroppo ok pagina 11 qua è scritto un po' più vediamo se riesco a farlo vedere in questa maniera di meglio vediamo ecco piegato così leggete aspettate vi faccio leggere anche questo c'è scritto sotto che belli questi disegni ragazzi queste foto bellissime chi fa queste cose se hanno fatto il suo sicuramente allora ecco qui siamo a pagina 12 13 e abbiamo finito c'è l'ultima di copertina e basta ecco qua ecco qua ecco l'ultima vedete questo riesco a farla scorrere perché è chiusa da un lato per cui passa i mezzi piedini del treppiede del telefonino sono con un J6 della Samson che sto riprendendo ragazzi questo passa al convento ma sono già contento così allora torniamo a noi 64 una serie di viti tre viti ne serviranno chiaramente solo due ne danno sempre di più meno male serie di viti em metallo ricordatelo sempre contrassegnato con la scritta nera e oltre averla piccoli per la plastica sono contrassegnati con le scritte in azzurro andiamo subito ad aprire queste qui c'è il problema un problema grave è vero non è pane ne acqua non parliamo di vito di morte però ragazzi come si fa a fare un errore così dai ragazzi ma come si fa andiamo a vedere è bello che l'hanno anche ripetuto sul fascicolo guardate perché questo corrisponde perfettamente questo coprianca il bottone coprianca destra corrisponde perfettamente a quello che c'è in figura peccato che questo caspita questo è quello che doveva essere e qui è invece manca il cerchio vedete manca il cerchio in esterno qui non c'è e qui c'è lasciamo perdere l'intensità di colori e questo siamo abituati un po' tutti che che la sbagliano questo è più metallizzato questo di meno quindi è andato sicuramente più rosso che è andato più a copertura a differenza di questo che si vede di più l'argento sotto comunque vabbè ragazzi allora ascoltatemi bene prima del montaggio io vi dico che ho fatto sia la telefonata numero verde dove ho fatto verbalizzare tutto è stata gentilissima Elisabetta la signorina che mi ha risposto la quale appunto ha segnalato tutto quello che gli ho detto ha verbalizzato me l'ha riletto perché perché ragazzi questo qua sarà molto difficile che ce lo possano sostituire perché hanno sbagliato però io l'ho segnalato lo stesso per segnalarlo ragazzi vi do l'indirizzo ok ascoltate bene prendete carta e penna ok vi do tempo di prendere carta e penna ragazzi per quelli che poi decideranno di non fare l'email e beh non vi lamentate eh non vi lamentate se le cose non cambiano perché è facile lamentarsi però io scrivo altri scrivono e voi non scrivete facciamolo un po' tutti perché comunque il pezzo l'abbiamo pagato ed è giusto che ci diano il pezzo tutti possono sbagliare anche se qua ragazzi cioè o si sono accorti dell'errore che avevano già stampato e siamo andati avanti così però dai non si può vedere eh me l'aveva segnato ripeto Nechita 68 e Luca Pedra io non avendolo ancora ricevuto ho risposto ragazzi io non so dirvi ancora niente perché anche se ho ricevuto adesso ho ricevuto il pacco da un giorno non ho ancora aperto per motivi miei che non ho potuto farlo e datemi tempo appena lo apro vi dirò e in effetti confermo e il bottone coprianca completamente sbagliato io penso che veramente non so come si potrà fare venire a capo di questo perché rifare uno stampo che dovrebbero farlo chi se ne importa dovrebbero farlo il fascicolo pace se rimane così ma almeno lo stampo darcelo però la vedo dura ragazzi ma comunque va segnalato va segnalato ok non ci sono scuse ragazzi dovete farlo tutti tutti se no non vi lamentate tenetevelo così ok allora avete preso carta e penna no no ma magari tanti dicono non vi arrabbiate non ti arrabbiare ma mi arrabbio perché poi mi scrivono però poi la gente non scrive capito non arriva arriva magari solo la mia e qualche altra sporadica segnalazione ci facciamo veramente la frittura senza pesce così ok comunque l'indirizzo è questo ragazzi dovete dovete dare appunto indicazioni che il bottone coprianca chiamiamolo così bottone copertura dell'articolazione dell'anca destra è completamente differente completamente no però insomma non corrisponde alla copertura dell'anca sinistra perché manca il cerchio interno c'è il piccolino ma il grande esterno non c'è più ok questo evidenziate anche che nel fascicolo perché vi do questo consiglio e fanno vedere proprio il bottone sbagliato quindi io sono andato a vedermi tutti i filmati ragazzi possibili immaginabili un'ora e mezza che sono mi sono visto a toys mi sono visto tutte le marche possibili sono andato su google ho visto le foto deve essere così sia a destra che a sinistra perché ho detto sai non è che possono aver sbagliato anche la rivista e invece sì ragazzi hanno sbagliato anche la rivista quindi segnalateva servizio.clienti chioccioladeagostini.com è registrato quindi basterebbe andare indietro ma io ve lo ripeto di nuovo ragazzi servizio.clienti chioccioladeagostini.com segnalatelo ragazzi datemi retta ok via abbiamo fatto la nostra bella e giusta rimostranza perché il modello è bello tutto quello che volete però queste cose qui e le devono mettere a posto e caspita che facciamo qua pao pao micio micio dai allora andiamo a prendere il nostro pezzo qui ci dice di prendere il biadesivo ce ne danno due uno sempre di scorta andiamo a staccare la prima pellicola che ci viene più facile staccare ragazzi la pellicola di protezione ecco qua perfetto ok io vi sconsiglio di staccare la seconda adesso vi spiego il perché quindi andiamo a posizionarla come ci fa vedere la figura andiamo a metterla qui ok io vi sconsiglio di staccare questa momentaneamente perché perché se voi staccate questa nel momento in cui andate poi a chiudere e se dovete intervenire ad esempio perché questo vi diventa morbido e non vi sta più su anche se non dovete giocare ma volete presentarlo nella vetrina così o dove la metterete voi e questo cade per intervenire su questo pezzo vedete va a coprire la vite voi rischiate poi di danneggiare questo a staccarlo quindi finché non siete sicuri poi fate ragazzi poi fate come volete io vi do dei consigli come vi ho dato nei video precedenti perché bisognerebbe prima registrare del modello prima di essere sicuri di chiudere il tutto siccome le parti dorate si possono evitare di mettere senza aver la fretta di arrivare alla fine del modello perché lo potete fare alla fine però io ve lo dico fate come vi pare a voi allora a questo punto fatto questo anzi no a questo punto niente perché è quello che vi volevo dire allora questo va qui perfetto e di passarvi queste viti queste sedi vite sì se in quadro se in quadro forse vedete è vero ragazzi che avete ragione allora le em questo filmato verrà un po così perché insomma mi sono messo a spiegarvi giustamente l'errore madornale che hanno fatto andiamo a prendere le due viti em le due di tre le altre sempre in più meno male andiamo a mettere del grasso ragazzi per farvi il filetto io vi consiglio di farlo poi fate come volete grasso olio masellina quello che avete il problema è che sia un lubrificante sporcata appena appena la vita ecco qua perfetto perché questa è un po' balordo da passare andiamo a filettarla potevo anche prepararmela prima ma voi la voglio far vedere tutta proprio come fare ok è molto più semplice poi capite una volta che mettete la plastica ok una è a posto con la stessa vite senza mettere alcun grasso più alcun lubrificante però pulite aspettate ragazzi pulite però sempre qua vedete guardate perché non deve toccare vi sconsiglio di far toccare il grasso vedete ha le plastiche e poi non serve lo giriamo dall'altra parte facciamo la stessa cosa se io a questo punto sapessi fare un video dove si manda avanti per non annoiarvi lo farei ragazzi non è che lo faccio per avere più visualizzazioni perché poi tanto poi come si dice schinnate mandate avanti voi ma io non riesco a farlo magari un giorno spero di imparare a fare questo e anche altre cose ma per adesso niente di tutto questo ragazzi quindi mandate avanti voi perché tanto qua è lo stesso lavoro voilà ecco togliamo la vite ovviamente ovviamente ecco qua puliamo la vite perché non serve più il grasso tant'è nel filetto all'interno ecco qua vedete quanto grasso che c'è nevate non serve a niente perfetto a questo punto dobbiamo semplicemente mettere questo come lo mettiamo ripeto fate come volete io questo lo faccio dopo perché svitare queste due viti non ci vuole niente soprattutto se avete fatto il filetto con il grasso allarghiamo questi due lembi vedete posiamo questo qua in punta allarghiamo questi e lo inseriamo così ah no scusatemi non così non così aspettate era così poi vabbè entri in un modo nell'altro ragazzi ecco qua perfetto vedete io qua non ho messo il collante non è un problema adesso vado a mettere a riposizionare la vite rimetto questa intanto non si è rovinata la testa e niente se non potete sostituirla tranquillamente con la terza in più guardate come è servita adesso vedete quando sento il duro è già arrivata la plastica ancora è morbido è arrivata invece voi cosa fate non mettete l'olio non lo passate sentite duro 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 quando è che vi rendete conto che è arrivata la plastica forse quando la spaccate ecco perché vi dico di fare così ok stessa cosa di qua guardate come scivola perfetto guardate basta basta le teste della vite ovviamente per chi deciderà di non usare l'olio sappiate che devono essere sotto la linea del cerchio perché se non mettete l'olio pensate che siete arrivati se siete su non si chiudono poi le plastiche dorate fate molta attenzione a queste due plastiche piastra laterale destra e piastra laterale sinistra dorata perché sono delicatissimi questi e guardate non sono diritti ma cosa sto inquadrando e ragazzi scusate vedete parlo di questi pezzettini non sono diritti sono in obliquo quindi facilmente si possono rompere se non vengono messi correttamente stessa cosa qua vedete i perni vedete che sono in obliquo attenzione ok quindi giriamo la pagina la bella paginetta eccolo qui e andiamo andiamo io ragazzi non lo metto comunque questo va messo qui aspettate perfetto guardate questo andrebbe messo qui dico andrebbe perché io per il solo motivo che vi ho detto io aspetto sempre alla fine di registrare per metterli perché se mi succede e vi garantisco che succede perché si devono assestare tutte le cose che mettete poi rompete i perni a toglierli comunque io non li schiaccio perché poi li leverò questo è come poi alla fine dovrà risultare finito semplicemente più inserito ovviamente abbiamo finito la 64 adesso io andrò subito a fare il video appena si caricherà questa della 65 ragazzi ok eccola qua il modello aspettate il modello parte del modello comunque al di là di tutto è bellissima ragazzi questa armatura cioè io sapete lo dico vediamo se riesco a riprendere un po così ecco era un po più mossa ma al di là di tutto è veramente un ottimo modello certo queste cose fanno arrabbiare perché il cribio si ti sostituiscono i pezzi il controllo qualità lasciamolo perdere poi sono gentili i pezzi che lo sostituiscono non lo vogliono indietro parlo per chi ha l'abbonamento ovviamente per chi non ha l'abbonamento in edicola lo puoi dare indietro ma capite che se vi capino dieci dodici pezzi nella collezione i cento pezzi o di più che dovete andare indietro l'edicolante non so quanto sia poi a meno che non sia proprio un vostro amico contento di questo no perché non è rottura anche per loro un fastidio anche per loro con l'abbonamento non ci sono problemi mandi l'email ti dico metterti il pezzo fai due foto e siamo amici come prima però comunque ragazzi magari arriva il pezzo e quel pezzo magari è di nuovo fallato la vernice manca io ho scritto anche un'email per farci piuttosto pagare un numero in più ma che ci dessero ritocchi argento e rosso per poter riprendere dei punti dove magari la vernice salta mi hanno risposto ma chiaramente non hanno fatto comunque niente comunque ragazzi mi raccomando fate mandate l'email che vi ho detto ma non perché ve lo dico io ma perché è inutile che poi ci lamentiamo se non agiamo ok io l'ho fatto adesso ne faccio un'altra direttamente l'ho fatto sia verbalmente ma ne faccio non contento ne faccio una anche scritta ok ragazzi un saluto a tutti da Michele mi raccomando aiutatemi a crescere in questo canale iscrivetevi iscrivetevi non vi costa assolutamente nulla a parte questi ultimi che sto pubblicando quest'oggi che non hanno i sottotitoli e li metterò chiaramente nei giorni a venire tutti gli altri video sono sottotitolati in lingue diverse perché non avrebbe avuto senso mettere tutte le lingue uguali vabbè ragazzi vedete questo qua io lo taglierei questo pezzo ma non riesco a tagliarlo non sono capace quindi lasciamo stare ok ragazzi comunque sono sottotitolati in 22 lingue per cui arriva a tutti quelli che vogliono che arrivi insomma ok ragazzi un abbraccio a tutti e alla prossima ciao a tutti